I musei sono luoghi di contagio? Eh, adesso sono un po' ridiche di pensarlo, no? Una biblioteca è un luogo di contagio? Allora, io penso che bisognerebbe fare delle scelte un po' più razionali. Impedire la cultura? Ecco, cioè sembra avere quasi un attacco ai giovani alla cultura. È sicuramente una misura più politica. Loro vogliono condizionare la vita delle persone, la chiamano spinta gentile. Io non vedo cosa ci sia di gentile per convincere a vaccinare. Ma se uno è veramente convinto dell'efficacia del vaccino, fa una campagna informativa seria. Questo bisogna fare. Non trattare i cittadini come bambini incoscienti che non possono comprendere. Abbiamo fatto un'analisi sistematica di tutti i dati, abbiamo fornito questi dati e alla fine siamo riusciti un po' con i ricorsi al TAR e anche al Consiglio di Stato che ha dato delle direttive molto chiare. Se non ci sono evidenze scientifiche, il principio di precauzione dice che le scuole devono essere aperte. E invece poi c'è stato il governo Draghi, il ministro Bianchi, come si è comportato? Noi non abbiamo più ricevuto dati. Niente. Non abbiamo più ricevuto... E le avete richiesti? Più volte. Più volte. Benvenuti a tutti in questo nuovo video, in questa nuova puntata, in una rubrica in cui, come avrete capito, stiamo provando ad affrontare i problemi della scuola e dell'università, i problemi dei giovani che stanno venendo semplicemente aggravati probabilmente da questa pandemia, anche se in gran parte erano problemi preesistenti. Ecco, noi vogliamo leggere questi nodi problematici nella loro profondità. Siamo partiti con gli articoli di Alessandro Baricco, con i quali abbiamo capito che c'è un'intelligenza, quella novecentesca, che sta mostrando sempre più la sua insufficienza, anche se è quella con cui continuiamo a ragionare ed è quella che continuiamo ad insegnare nelle scuole. Poi con Carlo Cuppini abbiamo visto in un'altra puntata come i giovani hanno vissuto il periodo delle chiusure e dei lockdown, la limitazione della loro libertà e danni anche psicologici che ne sono derivati. Ecco, oggi invece vogliamo entrare nel merito scientifico delle questioni sanitarie legate alla scuola e all'università. Ed è per questo che io e Emanuele siamo venuti a Milano per intervistare una scienziata, Sara Gandini, che è qui con noi e che voglio ringraziare per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Sara Gandini è epidemiologa e biostatistica, insegna alla Statale di Milano, collabora con la pagina Goccia a Goscia per l'apertura delle scuole. L'abbiamo invitata anche perché ha condotto uno studio importante, di cui dopo parleremo, sui contagi nelle scuole, dimostrando appunto che l'apertura delle scuole non aveva influito in maniera significativa sulla curva dei contagi. Quindi vorrei partire proprio da qui, dal momento che in questi giorni stanno ricominciando le lezioni scolastiche in tutta Italia. Lei so che all'inizio della pandemia, a marzo 2021, era favorevole alla chiusura, mentre poi si è battuta a lungo, anche vincendo numerosi ricorsi al TAR, per mantenerle aperte. Quindi la prima domanda è, cosa le ha fatto cambiare idea? Ma in effetti è difficile anche prendere posizione durante una pandemia, perché le cose evolvono molto velocemente, quindi uno deve un po' come navigare a vista, ecco, è difficile avere delle... anche sì, bisognerebbe proprio mettersi un po' in gioco, proprio anche rispetto alle proprie convinzioni, perché le conoscenze variano velocemente e quindi quello che può sembrare all'inizio, poi ecco bisogna stare molto, come dire, anche prossime alla letteratura scientifica, a quello che sta capitando, e essere disponibili a cambiare idea. Io credo che sia questo un grande insegnamento, in realtà, della pandemia. Quindi quello che è successo, in effetti, all'inizio abbiamo giudicato, ma un po' tutti, abbiamo giudicato quello che stava accadendo, come con le misure, con quello che sapevamo dal passato. Molti errori sono stati fatti, anche giudicando quello che stava accadendo sulla base delle informazioni del passato. In effetti, SARS-CoV-2 è un virus interessante, perché cambia velocemente, quindi... Poi ecco, l'altra cosa, sicuramente molto diversa rispetto al passato, è che colpisce fasce di popolazioni in modo molto diverso, proprio radicalmente diverso rispetto al passato. Quindi all'inizio si pensava che fosse un po' come il virus influenzale, che contagiano più facilmente i bambini, i giovani, rispetto alle persone più avanti in età. E invece è esattamente l'opposto quello che è accaduto con SARS-CoV-2, sia a livello di contagio, ma soprattutto a livello proprio di malattia. Ecco, quindi ecco, questa è una prima distinzione a cui ci tengo a fare. Fortunatamente la mortalità colpisce, ecco, non è che è bello dirlo ovviamente, perché dispiace sempre, comunque, però non riguarda i bambini, i giovani, ecco, riguarda le persone più avanti in età, anche la malattia più grave. Ecco, quindi già individuare le persone che corrono più rischi è stata una cosa importante, anche perché individuando ovviamente le caratteristiche che fanno sì che si corrono più rischi, aiuta anche a capire come muoversi, ecco, non dare messaggi uguali per tutti, ma calibrare a seconda delle situazioni. Quindi quello che noi abbiamo fatto è vedere cosa succedeva negli altri paesi, che hanno aperto le scuole prima di noi. Quindi come epidemiologi noi siamo abituati a lavorare proprio allargando il quadro e a guardare cosa succede altrove, quindi per poter imparare anche dagli altri paesi. In effetti abbiamo visto che quando gli altri paesi hanno riaperto le scuole non accadevano grandi focolai, non si era visto un aumento dei casi negli altri paesi, i contagi all'interno delle scuole erano rari e quindi eravamo, ecco, abbastanza contenti perché era la fine del lockdown e abbiamo detto finalmente forse, ecco, stiamo arrivando ad una situazione più tranquilla. E quindi, ecco, quando però noi abbiamo cominciato a raccontare questa cosa, dicendo, vabbè, ma l'Italia è tutt'altro mondo, non si possono fare confronti, in realtà in Italia abbiamo grossi problemi, affollamento, cose tutte vere, peraltro. Abbiamo, in effetti, i problemi della scuola, ecco, risalgola molto prima della pandemia e quindi io, come dire, ho sempre sostenuto anche gli insegnanti che si sono lamentati per avere classi meno affollate, per avere più insegnanti, non precari, ecco, io penso che sia una battaglia sacrosanta, ma ben prima della pandemia, ecco. E quindi, ecco, quello che noi abbiamo fatto a quel punto, ma anche giustamente, ecco, accogliendo le critiche che ci arrivavano, è lavorare per raccogliere più dati possibile, perché l'altra delle critiche è che noi non abbiamo i dati per poter giudicare cosa sta accadendo. Quindi ci siamo messi in tanti, anche con competenze differenti, quindi biologi, medici che facevano tracciamento, statistici, per raccogliere tutte le informazioni possibili. Voglio anche dire che io sono stata anche fortunata di poter collaborare anche con l'ex ministra Azzolina, che si è trovata in difficoltà, perché lei in effetti voleva riaprire le scuole, ma non c'erano dati, i dati erano molto contrastanti, non era facile anche interpretarli questi dati. Quindi lei si è anche messa in gioco e abbiamo potuto collaborare anche con molti presidi che hanno fornito ulteriori questionari rispetto a quelli che già avevamo e abbiamo messo insieme, ecco, tutta questa mole di dati. È stato un lavoro, ecco, mastodontico in effetti, in cui in tanti, e il livello è anche bello, come dire, anche in modo generoso, tante persone che lo facevano proprio per capire effettivamente cosa stava accadendo e per dare una mano, ecco, non richiesto da nessuno. E devo dire anche affrontando un livello di aggressività impressionante, perché noi provavamo anche, io ho provato in prima persona a mostrare, come dire, un altro lato rispetto a quello che... sì, a tenere la complessità innanzitutto di quello che stava accadendo e quindi non banalizzare i discorsi e non cedere sulla narrazione anche rispetto a catastrofista, cercare di togliere le paure, perché le paure non aiutano a pensare e quindi, che non vuol dire minimizzare i problemi, ma vuol dire tenere la complessità e la variabilità dei fenomeni. E quindi, ecco, siamo stati molto toccati perché negazionisti, no, va, insomma, l'aggressività, l'assassina, come l'hanno detto di tutti i colori. E devo dire che ho passato anche molte notti in bianco, perché questo ha voluto anche dire, anche perdere amicizie, perché la gente era anche molto spaventata. Io devo dire che, come dire, è stato molto pesante, per me lo è tuttora, però capisco, perché noi siamo stati terrorizzati dai media. E quindi capisco che la gente è spaventatissima e quindi ha solo la paura di controllare tutto, perché è come, hanno fatto questa narrazione di un virus che è incontrollabile, che è un nemico, che diventa quasi una figura mitologica che può colpire in qualsiasi momento. E anche questa narrazione rispetto a, come se fosse una guerra, ecco, ecco, questa è l'altra cosa che secondo me ha fatto problema. Quindi l'altro che è sempre un rischio di, un nemico, l'incontro con le persone che incontri sono sempre un nemico potenziale. Ecco, tutta questa narrazione ha reso le persone molto fragili anche e in difficoltà. E quindi noi abbiamo lavorato per cercare di pubblicare questi dati e rendere, farne una pubblicazione scientifica, quindi anche, come dire, metterci in confronto con la comunità scientifica, perché potesse in qualche modo giudicare quello che stavamo facendo, se era affidabile. Quindi abbiamo mandato ad una, ad una rivista scientifica importante, hanno fatto molte revisioni e quindi per renderla sempre più chiaro, quello che stavamo facendo. E fortunatamente è stata alla fine ben accolta anche dal CTS tutto il lavoro che abbiamo fatto. Devo dire che ha aiutato anche a fare qualche ricorso al TAR, perché nonostante il nostro sforzo di portare evidenze scientifiche, in effetti non ci ascoltavano. E quindi abbiamo dovuto anche lavorare a quel livello, quindi a livello giuridico insomma, appoggiandoci, anche perché le famiglie erano molto arrabbiate. E quindi noi abbiamo aiutato le famiglie a fare questi ricorsi perché c'erano evidentemente delle ingiustizie. Chiudevano senza motivo, chiudevano senza che ci fosse l'evidenza di Focolai, che la scuola fosse la causa appunto del motore della seconda ondata. Sì, appunto, il suo studio, il tuo studio rispetto a questa narrazione, secondo la quale l'apertura delle scuole avrebbe significato contagiare i professori, i genitori, i nonni, raccontava invece una cosa molto diversa, cioè che le scuole erano un luogo sicuro. Ecco, ci puoi riassumere appunto sulla base di tutti questi dati raccolti quali sono le argomentazioni in favore di questa tesi? Allora, noi in realtà non è che avessimo in realtà una tesi all'inizio, abbiamo raccolti i dati per cercare di verificare se era vero che, perché ecco, quello che è vero è che in passato erano stati fatti dei modelli, molti modelli statistici che accusavano le scuole di essere un motore. Ecco, quindi noi volevamo capire se effettivamente questo era vero. e avevamo l'esperienza però reale degli studi osservazionali, quindi la modellistica che dava dei dati e i dati reali osservazionali degli studi epidemiologici degli altri paesi che erano in contrasto. Quindi volevamo un po', ecco, effettivamente capire se in Italia la situazione è com'era. Ecco, quindi abbiamo fatto tante analisi statistiche. Abbiamo prima di tutto cercato di capire se il momento dell'apertura delle scuole influenzasse tutta una serie di indicatori statistici che sostanzialmente davano un'idea dell'innalzamento della curva. L'abbiamo fatto quindi con diversi indicatori statistici e anche nelle varie regioni, perché ovviamente è anche nelle province, a livello provinciale, per vedere se, non so, le elezioni, il momento delle elezioni poteva essere correlato. Ecco, facendo anche diverse ipotesi rispetto agli eventi che potevano avere influenzato questi andamenti, facendo le analisi per età, che era l'altro elemento che veniva anche dagli studi, dalle pubblicazioni scientifiche. E quindi per cercare di capire effettivamente quali erano gli elementi che avevano provocato. E di fatto i risultati hanno confermato poi quello che si è visto anche negli altri paesi, cioè che le scuole, l'apertura delle scuole non era correlata con l'aumento della curva, anzi in realtà la curva si iniziava ad alzare prima dell'apertura delle scuole. E in realtà i principali, i promotori, ecco, sono gli adulti, non i ragazzini, che hanno proprio anche una biologia differente. E quindi, ecco, abbiamo un po' confermato i risultati visti altrove. Peraltro abbiamo anche verificato che i contagi all'interno, cioè i contagi tra ragazzi e ragazzi erano molto rari, mentre era più facile che ci fosse un adulto che contagiava un adulto. Che di nuovo confermava un po' quello visto altrove, cioè è più facile che gli insegnanti contagiasse un insegnante. Ma perché? C'è una biologia differente e poi è anche lì difficile quanto siano i comportamenti e quanto sia appunto una biologia data da tutta una serie di elementi che rendono più protetti i giovani rispetto al virus, rispetto alla malattia, rispetto ai sintomi. E quindi sostanzialmente abbiamo confermato che i giovani non solo si ammallano significativamente meno e hanno meno sintomi, ma anche si contagiano significativamente meno e contagiano significativamente meno rispetto agli adulti. Poi però, quando è arrivata questa pubblicazione, hanno cominciato a dire i nostri detrattori, anche prima, gennaio, hanno cominciato a dire, vabbè, i vostri dati non sono affidabili. Non sono affidabili perché ormai è arrivata la variante inglese e quindi abbiamo visto che con la variante inglese in realtà i giovani si contagiano molto di più. Anche lì, in effetti, non è facile leggere questi dati, non è facile capire cosa sta accadendo, anche proprio capire, tutti dicono, la curva dice che, in realtà interpretare queste curve non è per niente facile. E scontato, ecco, infatti quello che abbiamo visto raccogliendo più informazioni era che se noi tenevamo conto dei tamponi che erano cresciuti enormemente con l'apertura delle scuole da gennaio, i primi mesi hanno proprio incrementato il numero dei tamponi fatti, specialmente nelle scuole, specialmente nei giovani, vedevamo che se tenevamo conto del numero dei tamponi fatti, il rapporto positivi su tamponi per età non variava. Quindi non c'era effettivamente questo incremento della contogiosità nei giovani. Erano semplicemente sovracampionati i giovani rispetto agli adulti e, in effetti, i dati dall'Inghilterra confermavano questa analisi. Avevano fatto dei report molto dettagliati, il Public Health of England, in cui mostrava, in effetti, che il rischio nei giovani era confrontabile a quello della variante, così come l'avevamo conosciuta, che non cambiava la situazione. E fortunatamente ci hanno ascoltato, ecco, siamo riusciti a fare arrivare tutti i nostri report scientifici, scientifici in cui vedevamo, non solo abbiamo fatto ovviamente il confronto anche con tutte le pubblicazioni scientifiche che arrivavano dagli altri paesi, che erano anche contraddittorie, quindi comprenderle, ecco, non era semplice. Abbiamo fatto un'analisi sistematica di tutti i dati, abbiamo fornito questi dati e alla fine siamo riusciti, un po' con i ricorsi al TAR e anche al Consiglio di Stato, che ha dato delle direttive molto chiare, se non ci sono evidenze scientifiche, il principio di precauzione dice che le scuole devono essere aperte. Anche l'OMS cominciava a dire queste cose, nel senso che una serie di allarmi venivano dati, anche di pubblicazioni scientifiche importanti, che mostravano che la chiusura delle scuole aveva effetti molto pesanti sulla psiche dei ragazzi, aumento di depressione, aumento anche di suicidi nei giovani, quindi studi, come dire, fatti bene di corte, quindi che confrontavano la situazione rispetto ai mesi precedenti, che mostravano non solo una riduzione dell'apprendimento, ma anche un aumento dello stato depressivo e di suicidi, anche in Europa. Quindi c'erano una serie di allarmi che venivano ormai raccolti e che davano proprio questa indicazione molto chiara. E quindi hanno riaperto le scuole ad aprile, fortunatamente, e non si sono visti aumento di contagi. Quindi abbiamo avuto la conferma, ecco, che tutte le analisi fatte erano corrette. Quindi vi ha dato ragione, vi hanno dato ragione poi anche i fatti. I fatti sì, i detrattori meno, ma si convincono meno facilmente. Più detrattori meno. Quindi oggi che stiamo riprendendo a fare una didattica in presenza, secondo te siamo di fronte a un successo oppure ci sono ancora delle cose che andrebbero cambiate nelle scuole? Allora, adesso io speravo sinceramente che le cose fossero più tranquille, anche perché bisogna ricordare che adesso, a differenza di aprile, adesso stragrande maggioranza della popolazione vaccinata. Allora, voglio dire innanzitutto che questi vaccini sono molto efficaci anche con la variante Delta. Sono efficaci rispetto alla malattia, che è il loro obiettivo. Dovrebbero proteggere dalla malattia, non dai contagi. Non sono nati con quell'obiettivo lì. Poi è vero che, come dire, riducono anche, in buona parte, anche i contagi. Però quello non sono nati con questo obiettivo e su questo sono molto efficaci. E quindi le persone che corrono più rischi dovrebbero assolutamente avvalersi di questa possibilità. Il problema qual è? Che avendo una grande maggioranza di persone protette, ma se noi andiamo di nuovo solo a guardare i contagi, abbiamo come l'impressione di avere di nuovo un rischio molto elevato. Ma in realtà, almeno al momento, perché bisogna sempre un po' navigare a vista con questo virus, quello che si è visto è sia in Inghilterra ma anche qua in Italia, che ormai, avendo, abbiamo già superato il picco dei casi, quindi dei casi positivi e in realtà le ospedalizzazioni, la terapia intensiva sono rimaste molto basse. Stiamo già in calo. Quindi, ecco, siamo in una situazione molto buona in questo momento. E quindi, ecco, dovremmo un po' capitalizzare tutte le conquiste che abbiamo fatto, sia in termini di ricerca scientifica e anche, come dire, di conoscenza del virus. E quindi, ecco, io speravo sinceramente che potessimo aprire le scuole dando un po' di sollievo ai giovani che hanno veramente bisogno di potersi ritrovare con più serenità. Invece, al momento, tutte le misure di prevenzione vengono mantenute, nonostante, appunto, abbiamo un 90% e passa di insegnanti vaccinati. Quindi, non è che, non capisco molto, ecco, perché non si possa, come dire, anche un po' tenere in conto che anche le misure di prevenzione hanno degli effetti collaterali. Quali misure di prevenzione intendo? Ma, lo stesso distanziamento. Il distanziamento comunicato in continuazione impedisce ai giovani di poter stare serenamente tra di loro, di poter giocare e poter fidarsi dei loro compagni. A livello psicologico queste cose qua hanno un grande impatto. Ma la stessa mascherina in un bambino di sei anni che è alle elementari, che non riesce a comunicare bene con la propria maestra. Cioè, questi elementi dovrebbero entrare. La stessa OMS, le CDC, hanno detto che prima dei 12 anni non bisognerebbe usare la mascherina, eppure noi continuiamo. Quindi, ecco, tutti questi elementi io non capisco perché dovrebbero essere tenuti in conto, proprio perché non è che ogni misura ha anche degli effetti collaterali. E quindi, veramente, io penso che dovremmo farci carico della fatica rispetto alle nuove generazioni, anche perché, se posso dirlo, loro stanno pagando in modo sproporzionato delle misure di contenimento del virus anche per colpe non loro. Noi siamo in questa situazione difficile anche perché siamo, come dire, frutto di tagli alla sanità, alla scuola, che non sono certo responsabilità delle nuove generazioni. Stiamo consegnando un paese in estrema difficoltà. Quindi io penso che gli adulti dovrebbero farsi carico di questo. Certo. Volevo farti una domanda, visto che prima parlavi della Ministra Zolina, che so appunto che ti ha dato una quantità di dati, per cui per lo studio di cui parlavamo prima si era arrivato, con reggini se sbaglio, a una copertura del 97% delle scuole come dati. E invece poi c'è stato il governo Draghi, il ministro Bianchi, come si è comportato? Noi non abbiamo più ricevuto dati. Niente. Non abbiamo più ricevuto dati. E le avevate richiesti? Più volte. Più volte. E questa cosa mi ha fatto veramente dispiacere. Perché se lo stesso Draghi ha riconosciuto il valore dell'importanza di queste pubblicazioni, come io credo, e la stessa, come direi, tutti i vari Tarnia, li abbiamo fatti in Lombardia, in Campania, in Emilia Romagna, li abbiamo vinti tutti, il Consiglio di Stato, è proprio perché noi abbiamo fornito dati affidabili. Ricorsi per riaprire scuole. Esattamente. Quindi è stato un dispiacere vedere che non si investiva in questa direzione quando è evidente che noi abbiamo bisogno di dati su cui poter verificare, ecco, i rischi. Perché c'è paura dei risultati? È quello che si teme. Però, siccome noi siamo testardi, andiamo avanti lo stesso. Quindi quello che io ho fatto è andare innanzitutto a raccogliere tutti gli studi che erano stati condotti nelle scuole. Tutti gli studi che parlano dei contagi, dei rischi, in cui avevo dei dati che potevo utilizzare per calcolare effettivamente questi rischi nei vari paesi, tutte le pubblicazioni scientifiche. Adesso abbiamo appena spedito questa pubblicazione che si chiama Meta-analysis, in cui andiamo a raccogliere tutti i dati e verifichiamo effettivamente quali sono le misure di prevenzione più efficaci. Per esempio, una delle cose che noi abbiamo confermato è la minore contagiosità dei giovani. Ma anche vediamo, per esempio, che le misure di screening che stanno promuovendo in questo momento, quindi fare a tappeto test in continuazione per individuare qualsiasi caso positivo, è estremamente inefficace e non utile al contenimento, mentre fare tracciamento è estremamente importante. E quindi ecco, stiamo continuando a lavorare e abbiamo vinto anche un grant europeo. Un grant europeo dove faremo degli studi a livello internazionale, in collaborazione con altri paesi, per cercare di capire effettivamente se questi screening sono utili, quali sono le misure di prevenzione più utili e quindi confermare se effettivamente avvengono cluster, anche perché appunto abbiamo di nuovo la variante Delta, c'è di nuovo questo allarme, quindi bisognerà tenere conto. E quindi ecco, avremo la possibilità poi di verificare una serie di cose, continueremo a raccogliere dati e analizzare, sperando di poter rassicurare, ecco, rassicurare in modo che si possa finalmente, perché è inutile che continuino a dire che, perché tutti lo dicono, e questa cosa mi fa felice finalmente, che la didattica in presenza è fondamentale, tutti lo dicono, ma per farlo bisogna veramente mettere in atto una serie di misure che non permettano le chiusure. E non sembra che ci sia questa volontà. Anche l'utilizzo, come dire, smodato di quarantene, per ogni caso, è ovvio che se non c'è un'evidenza di contagi all'interno della classe, se io trovo un positivo, quel positivo può essersi benissimo contagiato altrove, ma se non avvengono contagi in classe, siccome abbiamo comunque tutta una serie di misure di prevenzione in classe, non si capisce perché si debba chiudere tutta la classe. Ecco, io questo non lo capisco. Cioè, abbiamo una grandissima percentuale di persone vaccinate, adottiamo comunque delle misure di prevenzione. Cioè, bisogna, da una parte, tenere anche in conto che la presenza è fondamentale. Quindi, stiamo a vedere, io dico, se avvengono dei focolai, chiuderemo, ma se non avvengono, bisogna capitalizzare anche le informazioni, il sapere che abbiamo avuto fino adesso. Certo. Aprendo un altro capitolo, Sara, tu hai anche firmato, essendo professoressa della Statale di Milano, l'appello dei professori universitari contrari al Green Pass, in vigore dal primo settembre nelle università, per cui appunto uno studente che non ha il Green Pass non può andare a lezione, non può andare in biblioteca, se non fa dei tamponi a sue spese, e un professore addirittura rischia la sospensione dall'insegnamento. Tu perché hai firmato questo appello? Perché sei contraria? Ma, allora, per tanti motivi. Innanzitutto perché io sono, insegno biostatistica, e la statistica, la prima cosa che insegna, è proprio tenere in conto della variabilità del reale. Non tutti corrono gli stessi rischi, e questa cosa qua è importante da comunicare. Quindi, tenere la complessità e dare messaggi non univoci, ma calibrati, tenendo conto sempre dei bilanci rischi e benefici di ogni scelta. Secondo, perché il dubbio è fondamentale in ambito scientifico. Non ci sono certezze assolute, non c'è una verità universale, valda sempre e comunque. Quindi, tenere anche le domande, le paure che ti dice la gente, che ti comunica, questo dovrebbero farne tesoro gli scienziati, e non avere verità, no, assolute da vendere, ecco, anzi, farsi tesoro delle paure delle persone, soprattutto in un momento di questo tipo, dove abbiamo visto che la verità, non ce ne sono di verità, ma si impara in continuazione. Quindi, ecco, io penso che, in più, come dire, io non credo che i messaggi, i ricatti servano. Io sono assolutamente convinta dell'efficacia del vaccino. E io sono vaccinata anche perché lavoro in un ambiente ospedaliero, dove ci sono particolari rischi, e soprattutto penso che gli anziani bisognerebbe vaccinarli, offrire questa possibilità, perché è veramente un vaccino molto efficace, rispetto alla malattia, che è la cosa che dovrebbe preoccuparci. Ma obbligare le persone ha l'effetto opposto. È ovvio che abbiamo tantissime persone, allora, esiste una percentuale minima di Novavax, nessuno la nega, e sicuramente sono anche molto agguerriti, e va bene. Ma le persone, molte persone che in questo momento non si vaccinano, hanno, come dire, hanno bisogno anche di capire effettivamente cosa sta accadendo. Perché è un vaccino che comunque è stato sperimentato in breve tempo, necessariamente. Quindi abbiamo visto che AstraZeneca ha avuto dei problemi per via dell'età, quali età era migliore. necessariamente gli effetti collaterali rari è più difficile individuarli, soprattutto perché abbiamo bisogno di campioni molto ampi. Ecco, fortunatamente adesso, come dire, anche gli studi osservazionali stanno mostrando che gli effetti collaterali sono abbastanza blandi, non ci sono effetti collaterali grossi, ecco, pericolosi, anche nei giovani sono abbastanza rassicuranti i dati che vengono fuori. Tuttavia non conosciamo gli effetti a lungo termine. Quindi un po' di precauzione, soprattutto per i giovani che non corrono grandi rischi per il Covid, io la terrei, ecco. Soprattutto, anche perché sappiamo che ridurre completamente, il rischio zero non esiste. e pensare di, come dire, eliminare completamente la diffusione del virus è praticamente illusorio ormai. L'altro elemento che, ecco, che io porto ogni tanto è che se noi vogliamo effettivamente ridurre la malattia dovremmo anche preoccuparci che le varianti, per esempio, arrivano dagli altri paesi, dai paesi in via di sviluppo, dove non abbiamo offerto il virus in alcun modo. Ci sono ospedali in cui non abbiamo nessun tipo di copertura. Allora, io penso che si debba pensare in modo più generoso invece di vaccinare i bambini, darlo dove c'è più bisogno. E pensare anche a livello scientifico che pensare di essere come in una bolla. Se io vaccino tutta l'Italia ma negli altri paesi non si vaccina è illusorio pensare di difendersi anche se si ragiona solo in termini egoistici, ecco. E quindi, ecco, ci sono tutta una serie di contraddizioni oltre al fatto che noi sappiamo i musei sono luoghi di contagio. Adesso un po' ridicoli a pensarlo, no? Una biblioteca è un luogo di contagio? Allora, io penso che bisognerebbe fare delle scelte un po' più razionali. Impedire la cultura, ecco. Cioè, sembra avere quasi un attacco ai giovani e alla cultura. Quindi più che una misura sanitaria secondo te è... È sicuramente una misura più politica. Loro vogliono o condizionare la vita delle persone, la chiamano spinta gentile io non vedo cosa ci sia di gentile vogliono condizionare la vita per convincere a vaccinare. Ma se uno è veramente convinto dell'efficacia del vaccino fa una campagna informativa seria. Questo bisogna fare. Non trattare i cittadini come bambini incoscienti che non possono comprendere. Analfabeti funzionali, incoscienti. Cioè, è veramente una narrazione anche rispetto all'Italia. Tanti dicono ma noi non siamo la Svezia noi non siamo obbedienti. Ma veramente è un modo di trattare i cittadini ingiusto peraltro. Veramente ingiusto. Tra l'altro l'Italia si è comportata fin troppo bene durante la pandemia. Durante il lockdown abbiamo accettato misure anche insensate. Quindi, voglio dire bisogna trattare le persone in modo serio. Anche con un po' più di onestà rispetto a quelli che sono i rischi. Ma tu a un giovane a uno studente universitario o liceale consiglieresti di vaccinarsi? Guarda, io sinceramente ho consigliato a mia figlia di vaccinarsi e lei è il secondo anno di università per poter vivere. per poter andare in palestra per poter andare a... Quindi per il ricatto? Eh sì. Per poter perché io ho detto per il bene di mia figlia in questo momento è poter vivere. Per poter andare con le sue amiche anche in vacanza poter frequentare in presenza l'università che è fondamentale. Ecco perché ho accettato questi ricatti sapendo che erano dei ricatti e sapendo che come dire i rischi sicuramente da vaccino non erano così elevati perché se avessi pensato che erano pericolosi non gliel'avrei consigliato ma sicuramente non penso che corra dei rischi da covid ecco e quindi io sono vaccinata non capisco mia madre è vaccinata che è una persona anziana è vaccinata non capisco perché dovrei chiedere a mia figlia di... Quando sappiamo che il vaccino è poco efficace non è così efficace rispetto alla riduzione dei rischi di infezione ecco sicuramente funziona anche a quel livello ma è stato pensato per ridurre la malattia e i giovani si ammalano rarissimamente Sì diciamo che questa posizione anche equilibrata è un po' mancata a livello del dibattito scientifico e della comunicazione mediatica tu cosa ne pensi appunto di come si è strutturato il dibattito? Sì sì sono assolutamente d'accordo c'è questa radicalizzazione delle posizioni non ha aiutato a pensare non ha aiutato anche a trovare delle soluzioni buone per tutti questa cioè è la narrazione proprio del virus della pandemia come di una guerra per cui l'altro è sempre un nemico da abbattere e questo si è visto tantissimo sui social ma anche nelle tv in televisione quindi non c'è un dialogo sereno tra posizioni differenti come dovrebbe essere in ambito scientifico tenere conto di tutte le obiezioni perché non ci sono verità assolute e quindi stare in dialogo tra posizioni differenti per capire insieme come comunicare come stare di fronte a una pandemia che mette tutti in grossa crisi ecco le radicalizzazioni le posizioni assolute non aiutano nessuno anzi alimentano anche il sospetto alimentano le paure e quindi io non penso che sia una strategia buona questa sì a proposito di narrazione appunto e di comunicazione tu suggerivi riprendendo anche un articolo scientifico di parlare non più di pandemia ma di sindemia e qui di usare un altro termine quindi che cosa significa questa parola che è così poco usata invece invece è una parola importantissima ed è la nominata per primo Orton che è il direttore di The Lancet quindi una persona molto seria e lui ne ha parlato in questi termini lui dice anche se avessimo i vaccini più efficaci del mondo non risolveremmo i problemi della pandemia che è strettamente legata a una dimensione socio-economica perché le categorie più a rischio a livello socio-economico le persone che hanno tante patologie la parola sindemia deriva dal fatto che sono tante componenti legate tra di loro ma questo discorso anche della complessità le persone che corrono più rischio sono quelle che hanno diverse tipi di patologie e da cosa sono legate queste patologie spesso alimenti socio-economici sono le persone che sono in classico in livello educativo più basso che quindi non hanno la possibilità di avere l'assistenza sanitaria che quindi hanno meno cure sono quelle che correranno più rischi e avranno meno possibilità di curarsi e quindi se noi non allarghiamo di nuovo il quadro e non teniamo conto di tutte queste dimensioni non risolveremo il problema della pandemia ce la porteremo avanti all'infinito quindi bisogna veramente cercare di tenere tutti i tasselli del discorso insieme perché proprio sono le classi sociali per farvi un esempio ecco ci sono giovani che hanno dovuto fare la didattica a distanza in tre famiglie qua io abito in un quartiere popolare ci sono svariate famiglie che vivono in due stanze tre figli che fanno la dad uno in bagno uno in camera uno sulle scale dopo un anno si può ancora pensare a una cosa di questo tipo e queste sono famiglie ovviamente con gravi disagi economici e sono quelle che ovviamente si ammalano anche più facilmente proprio perché hanno meno sostegno a livello sanitario hanno meno prevenzione io lavoro in un ambito oncologico cioè noi ci siamo dimenticati di tutta una serie di altre patologie e che è dal mio punto di vista aberrante la prevenzione per tutta una serie di tumori non la si fa più perché si vedeva solo un aspetto del problema allora bisogna di nuovo tenere la complessità e allargare il quadro e capire che se noi ci concentriamo solo su una cosa perdiamo di vista in realtà il problema vero e quindi da una sindemia si guarisce utilizzando questa complessità questi approcci diversi ma questo non è proprio in contraddizione con l'approccio che abbiamo avuto politicamente anche la stessa area di un comitato tecnico scientifico cioè che si occupi in maniera specialistica di un aspetto separato da tutti gli altri non è proprio questo il problema sì sì io sono totalmente d'accordo e penso che si debba come dire cominciare ad investire di più sulla sanità la scuola e ricominciare a fare discorsi come dire che noi diamo per scontati ma non lo sono per niente perché noi sappiamo che anche rispetto alla sanità noi veniamo da decenni di tagli che hanno attraversato tutti i vari governi 37 miliardi di tagli negli ultimi decenni e quindi ecco bisogna ricominciare a parlare della sanità territoriale di nuovo io sono un po' come dire critica rispetto a chi parla di tutta una serie di medicine alternative che sarebbero efficaci il mio problema non è individuare il tal farmaco che funziona meglio o no ma investire di più sulla sanità territoriale investire di più sui medici perché noi abbiamo bisogno di una relazione di una relazione col medico di fiducia bisogna recuperare fiducia nella relazione medico-paziente nella scienza e quindi come dire uscire da una logica di guerra e recuperare gli scienziati hanno bisogno di recuperare l'autorità perché l'hanno persa durante la pandemia e l'hanno persa proprio perché si sono schierati a favore della tal fazione io ho sempre cercato di sottrarmi sia a livello ideologico che a livello di fede perché a un certo punto determinate posizioni sembravano quasi fideistiche bisogna crederci non ci sono i dati ma la scienza dice che la scienza non ha una voce sola ci sono tanti scienziati con tante formazioni diverse quello che vedo io non è quello che vede un medico che incontra i pazienti io analizzo i dati da biostatistica epidemiologa e non ho l'incontro che ha un medico con un paziente e non ho quello che vede non vedo quello che vede un biologo tutti insieme dobbiamo dare un quadro complesso di quello che sta accadendo in dialogo in ascolto reciproco e quindi questo è troppo importante ce lo stiamo perdendo di vista e quindi torniamo anche a livello politico come dicevi questa politica sta facendo qualcosa per rimuovere questi dislivelli queste disuguaglianze per investire dove ci sarebbe bisogno tu cosa vedi? no io anzi ho visto purtroppo regioni intere come la campagna in cui c'è stato ragazzini degli elementari che non sono andati a scuola per mesi e mesi regioni in cui noi sappiamo che la mafia è potentissima quindi regioni che sono state completamente abbandonate e io adesso sono appena tornata da Napoli che è una città a cui sono molto affezionata e le madri sono disperate c'è stata una dispersione scolastica elevatissima e non sanno neanche più come recuperarli tanti ragazzini allora come facciamo a dimenticare cose di questo tipo? io penso che sia gravissimo un'ultima domanda quindi che cosa possiamo fare goccia a goccia com'è il nome del tuo progetto per iniziare a risalire da questo punto secondo te? allora la sì io la strada che ho cercato è quella che è più mia è quella di non stare appunto nelle contrapposizioni di proprio togliermi da queste posizioni anche più strumentali e di lavorare in uno studio matto e disperatissimo è un anno e mezzo che io studio e lavoro tutti i giorni e e e poi mettendomi veramente in ascolto di persone con le competenze più diverse quindi il lavoro che stiamo cercando di fare è quello di stare insieme giuristi sociologi filosofi ognuno con il proprio sguardo su quello che sta accadendo scienziati quindi anche gli scienziati appunto con formazioni diverse proprio perché solo così riusciamo a capire effettivamente cosa sta accadendo e trovare una strada migliore un linguaggio migliore giorno dopo giorno giorno dopo giorno quindi goccia dopo goccia noi stiamo cercando di portare un discorso differente di esserci portare la nostra testimonianza sapendo in coscienza di aver fatto quello che potevamo almeno questo voglio poter dire a mia figlia io ho fatto tutto quello che ho potuto per togliere le paure per problematizzare tenere la complessità e quindi trovare un messaggio giusto non un messaggio che vada bene per tutti perché non c'è un messaggio che va bene per tutti ma cercare di capire come in ogni contesto trovare la e mettendosi in gioco anche in continuazione perché quello che ci insegna questo virus è questo mettersi in gioco in continuazione e capire in quel contesto qual è in quel contesto la misura più corretta grazie mi piace molto questa risposta mi piace molto questo impegno appassionato e anche la risposta perché nel piccolo è quello che stiamo provando a fare noi anche con questi video con questa rubrica stiamo andando da uno scrittore da un epidemiologa proprio per tenere insieme la complessità e per provare a favorire un punto di vista più ampio ecco e più umano direi anche esatto quindi su queste parole ti ringrazio molto per essere stata con noi e per aver risposto alle nostre domande e saluto tutti i nostri ascoltatori ci vediamo nel prossimo video grazie 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 grazie